www.feyyaz.com 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 Oh ma a fine hai giudato da volantinaccio? No, no, no. C'è cosa? Che c'è? Ho sentito un amico mio, mi hanno detto 15 euro all'ora esce alle 7 di mattina, sapevo quando torna alla fine queste cose non me le voglio perdere. Eh ma alla fine c'è cazzo da faccio a fare? Stai da buona! Vedi chi ci fa l'onore di farci vedere? Alleluia! Ui su, è una settimana che notte hai fatto vedere? Ma qua! Ciao mani! Ciao Gigi! Ma che fine hai fatto? Ehm... Miei... Ma noizè... Tappo... Oma grazie a dei messi! Oh... Vigado! Cazzo! 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 Vabbè... Quelle volte la gente si comporta e certamente non ci vanno a perdere però voglio dire lasciando perdere il cazzo che ti sta prendendo prendi, fai, scappi, ti lascia con il dine però... insomma... parliamone... in qualche modo Vabbè... ci facciamo una cosa ma... parliamo stasera? Nanza una birra noi pighiamo una birra una pizzella... c'è stacce... noi parliamo tranquillamente Sì anche... non lo so... è stata questa magneta quella... Do che ti piace? Quella amica nostra... E' la pazza con il? Se ne parla... vediamo un po'... dai... non so... rilassa... stiamo prendendo un G in le corte, no? dai... ma... G! Gigi! Oh... la prossima volta che lo fa... lo seguiamo... oh... ma... che cazzo di fine ha fatto quello? dove cazzo sta? non viene così... che ora è su? Arresti... 5 minuti fa me l'hai chiesto... eh... non sta venendo... le salse... che ne so... non c'è stata venendo... a proposito... stavo dicendo... quella tipa... dell'altra volta... eh... garbato... eh... niente... le salse... solita storia... tutto guà... tutta così... eh... portò fuori... subito portò fuori... cinemino... tac... cinemino... paghi la cena... paghi la cena... ristorantino... 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 ristorantone... della madonna... pure quella zocco... non l'ha fatto pagare... e quindi che hai concluso? c'è che ho com'è... un ristorantino di rossi... che ho raccontato... tra l'altro... le patate cose... agnelle quattro farmacce... patate con le scaloppine... caffè... ammazza caffè... dolcificante... pasticcini... pasticciotti... pasta reale... mazza enorme... me ne vado via rotolando... si va bene... ma ci hai concluso... e che ho concluso... e che poi siamo arrivati... sotto a casa sua... sempre rotolando... per carità... siamo arrivati... sotto a casa sua... e mi ha fatto... un bel discorso... Gigi... Gigi... ma è meglio... certo che è lui... Gigi... Gigi... che è lui... è lui... che è lui... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, sta là. È intelligente il ragazzo, veramente intelligente. Veniamo a voi. Vi vedo, piuttosto malconci, produttivi, improduttivi. Ma il cavolo ne sei più di nuovo. Ma c'è sì, c'è da canoscia. Ehi, lascia fare, dai. Parti fuori, parti fuori. Cinema, cinema. Ristorantino, il miglior ristorante, viaggi, moto, macchine, qualsiasi cosa. Pensiamo a tutto noi, tutto noi. Sì, è arrivato a Babanath. Ma c'è veramente, Salzo. No, aspetta. Aspetta, sentiamo quello che devo dire. Salzo, ma stai scherzando? Questo qua sta qui seduto, noi ci faremo il cuglio. Ascolta il tuo amico. Sembra, sembra intelligente, lui. Puoi comunque, credi che non lo sappia, scusa. E la ragazza non è mai esistita. Non è mai esistita. Non è stato chiaro? Non è stato chiaro? Non è stato chiaro? Non è stato chiaro? Martedì mattina, ora 10, presto al tempo. Il amico si avvicina a cappelli lunghi e soldi forza non è caso di strapizzare